Ha chiarito tutto ed è ancora più tranquillo adesso che ha chiarito tutto. Quali aspetti ha chiarito? Tutti quelli che gli sono stati richiesti. Ha risposto alle domande del GIP Pier Giorgio Ponticelli Valeriano Mureddu nel corso dell'interrogatorio di garanzia che si è svolto venerdì mattina nel carcere a Retino di San Benedetto. Mureddu è stato arrestato all'alba dello scorso mercoledì nella sua casa di Monte San Savino in seguito ad un ordine di custodia cautelare firmato dal GIP del Tribunale di Arezzo Pier Giorgio Ponticelli su richiesta dei magistrati coordinati dal procuratore capo Roberto Rossi. La scarcerazione? Le varie richieste. Quali sono le richieste che avete avanzato? Le vedrete quando i magistrati scioglieranno le riserve. L'ambito delle indagini sul crack di Banca Etruria. Secondo gli investigatori della Guardia di Finanza, la GeoVision, azienda di imballaggi con sede a Badialpino, dichiarata fallita dal Tribunale di Arezzo, sarebbe ascrivibile allo stesso Mureddu, anche se il quarantene non compare ufficialmente come titolare. Le distrazioni patrimoniali ad essa connesse entrerebbero di diritto nel filone bancarota delle indagini su Banca Etruria.